Come trovare e aggiornare così i driver obsoleti sul sistema operativo Windows 11? In questo caso se stai riscontrando dei problemi riguardo a applicazioni o driver sul tuo computer che non rispondono più, vuol dire che hanno bisogno di qualche aggiornamento. Quindi grazie all'applicazione PC Helpsoft Driver Updater noi possiamo trovare gli aggiornamenti, quindi tutti i driver obsoleti e aggiornarli. Ti ho lasciato così in descrizione la pagina per scaricare il programma, puoi semplicemente scaricare qua sopra, scegli così la tua lingua, scarichi, installi il programma, ci vuole proprio niente, ci vogliono all'incirca pochi secondi e poi lo installi sul tuo computer. Ed eccolo qua, una volta fatto vai così a cliccare su avvia scansione, ti fa una bella preparazione e qua c'è scritto trovati zero driver obsoleti su un dispositivo. Ha trovato così dei driver, quindi ha trovato due driver obsoleti su tutti questi dispositivi che ho sul mio computer. Una volta fatto, ed eccolo qua, due aggiornamenti dei driver identificati per la mia scheda madre, faccio aggiornamento manuale. Se invece vuoi comprarlo devi fare registra ora. Aggiornamento manuale, faccio direttamente visita, quindi vista e correzione manuale. Ed eccolo qua, faccio aggiornamento manuale, continuare l'installazione, driver aggiornato correttamente, faccio chiudi. Stessa cosa lo faccio anche con Realtek, vista e correzione manuale, faccio aggiornamento. È stato aggiornato correttamente un pacchetto di driver oggi e occorre avviare prima di scaricare un altro. Quindi a me mi dice di riavviare, ritorno di nuovo sull'applicazione e installo quest'ultimo driver obsoleto. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!